A volte è davvero facile perdere di vista cosa ci rende felici, il percorso che facciamo nel nostro vivere quotidiano, famiglia, salute, passioni e ricordi. Un giorno poi ti accorgi che vent'anni sono passati e non sei più un ragazzino. Pensa a tutti gli sforzi fatti in vita per raggiungere i tuoi obiettivi, tutto per raggiungere la felicità, ma nessuno sa cosa sia davvero. Sta ad ognuno di noi poi scegliere le proprie priorità e come vivere la propria vita. Non è mai facile di lottare duramente ogni giorno ed il nostro percorso ci porta a vivere la pesca e la natura come perfato da nomadi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.